Dunque vi do le ultime notizie, dicono funzionari di polizia, ah no, ecco, è arrivata la conferma, l'uomo morto è Moro, si trovava nei pressi di via delle botteghe oscure in una R4 rossa. La cosa buffa ragazzi è che quando la mattina noi usciamo di casa per andare al lavoro o dove dobbiamo andare, non immaginiamo certo che di lì a poco, neanche dopo 10 minuti, la nostra auto potrebbe essere bloccata da un commando di terroristi, traforata da una scarica di mitra che questi terroristi senza neanche scalfirci ci prendano di peso, ci infilino in un sacco di vimini e ci lapiscano per portarci chissà dove. Ecco, Demer-Minor Herrard probabilmente questa cosa non la pensava neanche Aldo Moro nel mentre che stava scendendo le scale alle 8.55 per andare in Parlamento da via forte del trionfale 89, soltanto uno con manie di persecuzione potrebbe pensare una cosa del genere. Buongiorno, il presidente della democrazia cristiana Aldo Moro è stato rapito questa mattina alle 9.10 da un commando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere trionfale per recarsi a Montecitorio dove alle 10 era fissato l'inizio del dibattito, il primo dibattito parlamentare sul nuovo governo Andreotti. È giovedì 16 marzo quando alle 9.02 di mattina Aldo Moro, presidente della democrazia cristiana, viene rapito dall'organizzazione clandestina di estrema sinistra più attiva all'epoca. Le Brigate Rosse. Dopo 55 giorni di prigionia, l'onorevole verrà ritrovato cadavere in via Caetani a Roma, nel baule di una Renault 4 rossa. Quella mattina Moro era diretto alla Camera, dove alle 10 si sarebbe votata la fiducia al quarto governo Andreotti, il primo dal 1947 con l'esplicito appoggio del Partito Comunista. Dal 16 marzo al 9 maggio, 55 giorni di prigionia in una camera insonorizzata. In Italia il 1978 rappresentò uno dei punti più oscuri della violenza dettata dagli anni di piombo e dalla strategia della tensione. Nell'arco di 10 anni, segnati dalla lotta al terrorismo, dall'autunno caldo del 69 all'83, si registrarono più di 800 morti e oltre 3.000 feriti, Piazza Fontana, Piazza della Loggia, l'Italicus, Bologna. Questi furono solo alcuni dei momenti più critici della nostra storia più recente. In risposta al terrorismo nero, le BR iniziarono una prima fase di lotta di propaganda armata con l'intento di mobilitare il mondo operaio delle fabbriche contro la minaccia dell'estrema destra aversiva e contro l'ordine precostituito della Repubblica Italiana. Il sequestro del magistrato Mario Sossi nel 1974 fu solo una pratica anticipatoria nel piano di rovesciamento dello Stato borghese. Le BR vollero alzare l'asticella e colpire più in alto per far scalpore. Volevano arrivare ai simboli riconducibili all'idea di istituzione nemica, per portare direttamente l'attacco al cuore dello Stato. Identificando lo Stato come il nemico da abbattere, fu logica naturale vedere nella DC il partito, da sempre dominante, come il nemico da scardinare e annientare. Ma perché Aldo Moro e non Fanfaneo Andreotti? Nonostante le tante ipotesi, ancora oggi nessuno lo sa con certezza. Forse la scelta fu dettata dall'apertura di Moro al PC, nel segno del compromesso storico, un fatto sgradito sia agli Stati Uniti che all'Unione Sovietica, la quale non vedeva di buon occhio l'ascesa al potere di un partito comunista occidentale attraverso la via riformista e non tramite quella rivoluzionaria. In tal senso in molti hanno alluso al fatto che le BR siano state soltanto gli esecutori materiali del rapimento e dell'uccisione di Moro, quando in realtà il vero mandante sarebbe stato l'intelligence internazionale. Statunitense, sovietica, italiana o britannica non sapremo mai fino a quanto si spinse la loro ingerenza indipendentemente da tutte le speculazioni che possiamo fare. Gli americani, tra cui Henry Kissinger, che già avevano ammonito Moro di non fare passi falsi, erano obiettivamente preoccupati di un eventuale avanzamento del PC che nel 1976 aveva registrato ben il 34% dei voti, finendo per contendere la storica supremazia alla DC. Tuttavia, l'obiettivo di Moro era ben più pragmatico della semplice accondiscendenza al PC e aveva assicurato l'alleato americano. Moro voleva tenere i comunisti a metà guado nella maggioranza ma senza farli entrare nel Consiglio dei Ministri, convinto che questo li avrebbe logorati indebolendoli sul piano elettorale. Cosa che, effettivamente, accade nel 1979, un anno dopo la morte di Moro, quando il PC uscì dal governo di solidarietà nazionale. Già nella sua visita ufficiale negli States nel 1965, Moro aveva rassicurato Kissinger e il presidente Johnson con questa strategia. Se il vero obiettivo dei terroristi fosse stato impedire l'avvio della nuova fase di apertura al PC, il comando delle BR, la cosiddetta direzione strategica, si sarebbe mosso molto prima del 1978, ben prima che Moro arrivasse a trovare un accordo con Berlinguer nel dare l'appoggio a un quarto nuovo governo Andreotti. Era abbastanza logico, quindi, che a marzo del 78 i giochi fossero finiti. All'aba del nuovo governo un rapimento sarebbe servito veramente a poco, e il nascente governo infatti godeva di circa il 90% dei consensi. In Parlamento alla sua approvazione il 16 marzo era questione di pura formalità. Quindi torniamo un attimo alla domanda di base. Perché Aldo Moro? L'agguato di Viafani è quanto di più incredibile sia stato realizzato ai danni di un leader di partito. L'onorevole Moro era abitudinario e i percorsi che faceva da almeno 15 anni con la sua scorta erano sempre gli stessi. Tuttavia non era affatto una novità che, del piano di rapire Moro, in molti fossero già conoscenze da tempo. Dei racconti di Antonino Arconte, ex appartenente ai servizi segreti italiani, si evinceva che persino i suoi vertici avessero intercettato la data del 16 marzo come data dell'operazione brigadista. La stessa Commissione Moro ha più volte constatato che le BR sono state oggetto di un attento monitoraggio da parte degli apparati di sicurezza. Per quanto consci di quanto stesse per accadere, i servizi segreti italiani non si sarebbero interessati a prevenire i piani delle Brigate Rosse. Questo spiegherebbe il perché nessuno avesse concesso a Moro una vettura blindata nonostante le varie richieste presentate dal capo scorta, e anche perché i bossoli sparati, tutti senza matricola, fossero identici a quelli dei depositi di armi, i depositi in ASCO, dell'organizzazione Gladio. Quanto al coinvolgimento dei servizi dell'Unione Sovietica, anche qui ci sono alcune incongruenze. Pensiamoci un attimo, se sia la CIA che il SID avessero sospettato l'intromissione del KGB, probabilmente sarebbero intervenuti per salvare Moro, piuttosto che lasciarlo in mano a delle Brigate Rosse e rischiare che parlassi rivelando informazioni molto pericolose per l'intero blocco occidentale. Ed è qui che è intervenuta e sopraggiunta l'opzione dei servizi segreti, che è stata recentemente avanzata, ma ne parleremo tra poco. Partiamo intanto da ciò che è certo, cioè 5 processi e 2 commissioni parlamentari. In particolare, partiamo dalla ricostruzione dell'accaduto. La Fiat 130 dell'On. Moro e l'Alfetta di Scorta, provenendo dal via Trionfale in direzione di via Fani, arrivarono fino all'incrocio con via Stresa, dove davanti a loro era ferma una Fiat 128 bianca targata CD, con alla guida il capo delle Brigate Rosse e l'ideatore dell'intera operazione di rapimento Mario Moretti. All'incrocio Moretti inchiodò di colpo, bloccando l'accesso alla Fiat e alla Scorta. Fu lì che avvene l'agguato fatale. Dalle siepi davanti al bar Olivetti, bar ufficialmente chiuso ma da alcuni testimoni riportato come aperto, spuntarono quattro brigatisti, con indosso diviso dell'Alitalia, che fecero fuoco sulle macchine, crivellando sul colpo i cinque uomini della Scorta di Moro. Nei cinque secondi immediata l'attacco, Moro, illeso, venne trascinato fuori dall'auto e caricato su una Fiat 132 Blue. La macchina di Moro con lo sportello spalancato e con tutti i giornali per terra. E con quei giornali un signore ha pietosamente coperto il corpo di gnozzino che era per terra lì. Avete capito che era Moro? Quello si è capito subito perché il giornalaio che lo vedeva passare probabilmente molte mattine ha detto subito che è Moro, è una macchina di Moro. Perché scegliere uniformi così strampalate, soprattutto se il bar era davvero aperto? Nessuno se ne era davvero accorto? Sembra un cappello dell'Alitalia, ma non ha quei gradi l'Alitalia sopra il berretto. Una motivazione per la prima domanda potrebbe essere che sì, forse i terroristi non tutti si conoscevano e quindi avevano scelto quelle divise particolari per non confondersi negli scontri. Discutibile. Quanto alla seconda, Tullio Olivetti, gestore del bar, secondo quanto scritto nella relazione della Commissione, era già noto alla magistratura per traffico illecito di armi, riciclaggio internazionale, rapporti con la criminalità organizzata. Chi abbia prestato collaborazione ai brigatisti non è assolutamente da escludere. L'assalto si era risolto in meno di tre minuti. Eppure le incongruenze di quell'agguato definito perfetto erano innumerevoli e contrastanti, come avevano fatto i brigadisti a neutralizzare tutti e cinque gli agenti di scorta senza che Moro finisse minimamente scalfito dalla raffica di colpi. Risposta che alcuni diedero perché semplicemente non era lì. E perché la scorta era senza giubbotti, antiproiettili e con delle misere pistole. Anche i nomi degli assalitori stessi erano in dubbio. Mario Moretti, Franco Monisoli, Valerio Morucci, Barbara Balzerani, Raffaele Fiore, Prospero Gallinari, Bruno Seghetti, Alvaro Loiacono e Alessio Casimirri. Questi erano quelli più conosciuti. Gli ultimi due, Loiacono e Casimirri, saranno gli unici a non scontare una pena, essendo entrambi ancora latitanti all'estero, il primo in Svizzera e in Canton Ticino e il secondo in Nicaragua. Dopo l'agguato cominciò subito una fuga rocambolesca in una Roma profondamente paralizzata dallo shock della notizia. Sulla base dei racconti dei brigatisti intrisi di incongruenze, per ben due volte Moro venne spostato su una nuova auto. In Piazza Madonna del Cenacolo fu fatto scendere dalla 132 e caricato su un furgoncino 850 Fiat, costringendolo a rannicchiarsi in una cassa di legno traforata. Nel parcheggio sotterraneo della standa di via Newton, la cassa con Moro venne trasbordata sulla Citroen Ami 8 intestata a Laura Braghetti, fino ad arrivare all'ultima tappa, via Montalcini 8, interno a 1, dove alle ore 10 l'onorevole venne rinchiuso in un vano insonorizzato lungo 2 metri e largo 90 centimetri. Le Brigate Rosse hanno rivendicato poco fa il rapimento di Moro. Hanno telefonato alle 10.10 alla redazione centrale dell'ANSA, che peraltro oggi è in sciopero, dettando questo messaggio di tre righe. Questa mattina abbiamo sequestrato il presidente della democrazia cristiana Moro ed eliminato la sua guardia del corpo, teste di cuoio di Cossiga, firmato Brigate Rosse. Le reazioni al rapimento furono variegate. Nel mondo studentesco, come riportato dall'Anfranco Pace, ci fu una reazione di esultanza e speranza per il rovesciamento dell'ordine sociale. La reazione del mondo politico a un atto così efferato nei loro confronti si trasformò invece ben presto in ira e preoccupazione. Preoccupazione soprattutto che Moro potesse rivelare informazioni pericolose per la sicurezza di stato, cosa che il prigioniero ricordò avrebbe fatto qualora il governo non si fosse adoperato a giungere a una trattativa. Perché sono sicuro che se il governo avesse rinunciato ad esprimere alcune linee del programma concordato avreste detto che saremmo venuti qui a carpire la fiducia per uno stato emotivo. Lei non può dire queste cose. Lasci parlare, lascia esprimere il valore al presidente del Consiglio. Credo che nessuno... È il suo diritto. E così come protestiamo contro la violenza degli assassini, dobbiamo tutelare qui il diritto di discutere liberamente il Parlamento e di contendere a prendere il Consiglio di Parlamento. Il PCI si affrettò a definire l'attacco come opera di oscure manovre provenienti da lontano e benché non fosse mai giunto ad accusare direttamente la CIA o il KGB, il suo atteggiamento si basò sul presupposto che le BR fossero manipolate dall'esterno. Si era voluto colpire l'onorevole Moro che era stato uno dei protagonisti della formazione della nuova maggioranza e di una politica di maggiore comprensione e incontro tra la democrazia cristiana e i partiti del movimento operaio, in particolare il nostro partito. In molti poi gioirono sommessamente dell'accaduto. Tra questi il ministro della DC Bernardo D'Arezzo, ad un brindisi nell'immediata notizia dell'omicidio esclamò Meno male che è morto, altrimenti questo ci portava le BR in Parlamento. In ogni caso, democrazia cristiana e partito comunista non ebbero dubbi nel considerare come unica strada percorribile quella di non trattare con le BR. Non si tratta con i terroristi, fu lo slogan che immediatamente si diffuse tra le forze di palazzo. Era la cosiddetta linea della fermezza. Contrariamente al governo italiano, il Vaticano e Papa Paolo VI nel corso dei 55 giorni cercarono di stabilire un contatto con i brigatisti, rendendosi anche disponibili a pagare un riscatto molto consistente, circa 10 miliardi di lire, in una trattativa che però non andò in porto. In una lettera destinata a Benigno Zaccagnini, durante un interrogatorio e l'altro nel Tribunale del Popolo delle BR, Moro scrisse Moralmente sei tu a essere al mio posto, dove materialmente sono io. Ci vuole un atto di coraggio senza condizionamento di alcuno. Zaccagnini, sei eletto dal congresso, nessuno ti può sindacare, la tua parola è decisiva. Non essere incerto, pencolante, acquiescente, si coraggioso e puro come nella tua giovinezza. E poi, detto questo, io ripeto che non accetto l'iniqua ed ingrata sentenza della DC. Ripeto, non assolverò e non giustificherò nessuno. Nessuna ragione politica e morale mi potranno spingere a farlo, con il mio e il grido della mia famiglia ferita a morte, che spero possa dire autonomamente la sua parola. Non creda la DC di aver chiuso il suo problema liquidando Moro. Io ci sarò ancora come un punto irriducibile di contestazione e di alternativa, per impedire che della DC si faccia quello che se ne fa oggi. Per questa ragione e per una evidente incompatibilità chiedo che ai miei funerali non partecipino né autorità dello Stato né uomini di partito. Chiedo di essere seguito dai pochi che mi hanno veramente voluto bene e sono degni, perciò, di accompagnarmi con la loro preghiera e con il loro amore. A quelle parole la DC, contro l'astuto tentativo di Moro di far leva sulla coscienza dell'anello debole di partito, si strinse intorno al suo segretario, affermando che quelle parole non erano riconducibili a Moro, in quanto vittima della sindrome di Stoccolma, è Moro ma non è Moro. Questo divenne lo slogan beffardo di Andreotti per giustificare l'assenza di trattative e vanificare la voce di Moro dal carcere del popolo. Venne il mio segretario e mi disse all'orecchio hanno rapito Moro. La cosa era talmente sconvolgente e d'altra parte mancavo di qualunque particolare, ritendi di concludere il più rapidamente possibile senza dire ai colleghi che erano lì questa notizia appunto per riuscire a capire di che cosa si trattasse, se fosse vero. Mi augurai nel mio cuore che fosse non uno scherzo ma una di quelle voci che possono ogni tanto essere messe in circolazione. Quanto ad Andreotti, Moro, in una delle sue 86 lettere scritte durante la prigionia, si scagliò proprio contro di lui. Dalle sue parole si affermava che Andreotti, con la sua morte, sarebbe stato il padrone senza umanità della Nuova di Cielo. In tal senso molti si chiesero perché le BR non prese l'ostaggio a Andreotti. I criminali replicarono sempre che Andreotti aveva una scorta più numerosa di Moro. Lo stesso Andreotti però avrebbe smentito l'affermazione, riportando che in quegli anni era solito andare a messa da solo la mattina. Nella sua ultima lettera Moro arrivò addirittura a rinunciare a tutte le sue cariche, dimettendosi dalla DC ed escludendo candidature future. Era chiaro che, se mai le BR lo avessero liberato, non avrebbero più potuto contare su di lui come elemento destabilizzatore della politica italiana. La prima contromisura che le forze dell'ordine adottarono fu la perquisizione a tappeto di tutte le abitazioni nei dintorni di Via Fani. Migliaia di agenti trasformarono Roma in una città blindata. 70 mila posti di blocco, 6 milioni di persone perquisite, 3 milioni e mezzo di auto ispezionate. Tutti questi numeri furono vani. Di fronte a questa situazione gli americani si limitarono ad appuntare come nuovo consigliere del ministro dell'interno Cossiga lo psichiatra Steve Piechenik, che di trattative sapeva ben poco e che propose come unica strategia quella di non trattare con i brigatisti, dato che Moro, secondo lui, non era indispensabile all'attività di governo e alla stabilità dell'Italia. Lo stesso ministro Cossiga affermò la strada della risoluzione. Quando scegliemmo la via della fermezza, dissi che, salvo miracoli, avrebbero ammazzato Moro. Lo sapevamo benissimo tutti, anche Piechenik. Che Piechenik fosse un'estensione naturale del volere di Kissinger, in molti lo pensarono. e c'è un'estensione naturale per Kissinger, che è che, dopo il dossier pubblicato, Moro's widow ha detto che Moro ha stato 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 un'estensione di un leader di politica dell'amera di politica dell'amera. Alcune persone hanno pensato che questo era Kissinger, è vero. In l'interno di questo, anche il P2 Lodge, Propaganda Due, ho messo a few members without knowing it at the time and this is essentially a u.s british creation and that's licio jelly ortolani but then a whole list of other people uh everybody who wants to be anybody has to join it andreotti berlusconi they all have to join it that is a kind of clearing house for journalists politicians the heads of companies professors who are going to be active in supporting these activities they're going to do propaganda backup and mass brainwashing and again the barter meinhoff group and the italian reprigate are both designed to maintain the altar line of demarcation that everything west of the line belongs to the us and the british and are not independent countries but they're under a kind of limited sovereignty brezhnev doctrine but but in the west il sacrificio di moro era l'unico modo per portare l'opinione pubblica a rigettare le br se moro fosse stato liberato i rapitori avrebbero guadagnato legittimità e stima agli occhi di molti fu la prima volta ammise piacinic nella quale mi trovai a sacrificare la vita di un uomo per la sopravvivenza di uno stato quanta cossiga questi sapeva benissimo che la morte di moro avrebbe garantito al governo di tenere a bada la destra reazionaria impedendo a berlinguer di guadagnare consensi e risolvendo al tempo stesso la questione p2 già la p2 quel casino chiamato loggia p2 sul quale prima o poi dovrò fare un video quel casino quel casino di loggia p2 per gestire la questione consiglia istituì un comitato di crisi ma nel 1981 quando furono comunicati pubblicamente i nominativi degli affiliati alla loggia p2 si scoprì che i sei ufficiali che formavano il comitato erano tutti piduisti ragazzi la cosa non era neanche più di tanto sorprendente i membri della p2 coprivano in larga misura quasi tutte le alte cariche all'interno della repubblica con chiaramente il benestare degli americani inoltre due anni prima della sua morte sempre cossiga rivelò che alcune unità speciali di stay behind della rete atlantica in italia meglio nota come gladio vennero adoperate nel caso moro queste unità si scoprì solo successivamente erano tutte guidate da un direttorio comprendente gran bretagna francia stati uniti e germania esautorando di fatto l'italia alla quale ironicamente veniva ricordato il suo status di nazione sconfitta in guerra quanto all'amarezza di non aver voluto salvare moro claudio signorile all'epoca vice segretario del partito socialista in un'intervista al tg2 nel marzo 2008 riguarda un eventuale accordo in extremis tra fanfani le brigate rosse disse aldo moro fu ucciso il 9 maggio per timore che la dc potesse decidere di aprire una trattativa con le br fanfani era intenzionato a trattare con le br per iniziativa umanitaria questa cosa la sapevamo in pochissimi io craxi e chi ha intercettato la nostra telefonata moro fu ucciso la notte successiva alla nostra decisione da allora ho la sensazione che qualcosa o qualcuno intervenne è un rimpianto anzi un sospetto di più una ragionevole certezza la mia personale convinzione è che l'omicidio di aldo moro sia stato un delitto politico alla camera chiesi che il governo facesse e lo stato facessero il possibile anzi l'impossibile l'amarezza maggiore è quella che deriva dal fatto che la verità non è stata raggiunta interamente i colpevoli non sono stati raggiunti e catturati puniti stando alle rivelazioni del magistrato ferdinando imposimato l'organizzazione gladio era già a conoscenza dell'appartamento in via montalcini si diceva che un commando era già pronto a liberare moro ma all'ultimo minuto sarebbe sopraggiunto l'ordine di abbandonare l'operazione forse quest'ordine provenì su imposizione di altri servizi segreti che particolarmente tenevano a mantenere lo status quo e la strategia della tensione in italia ma anche qui non lo sapremo mai il sas lo special air force service britannico fu coinvolto in queste operazioni che secondo imposimato cossiga avrebbe voluto impiegare nel blitz di liberazione di moro ed è qui che emergerebbe un conflitto ben più profondo del semplice dualismo tra servizi segreti americani e servizi segreti sovietici uno tra stati uniti e gran bretagna da sempre un conflitto latente fin dai tempi del delitto matteotti per gli stati uniti l'italia era un paese cobelligerante un paese che attraverso la resistenza si era liberato dal gioco nazifascista combattendo a fianco degli alleati per gli inglesi invece l'italia era il paese sconfitto soggetto al dominio delle potenze vincitrici il controllo della penisola tramite la vecchia tattica del divide timpera era la posizione mantenuta dalla corona britannica fin dal 43 piano che non rientrava però negli obiettivi americani che vedevano l'italia come base militare vitale nella sorveglianza del mediterraneo quanto siano coinvolti gli inglesi in questo affare non lo sapremo mai indipendentemente da quanti documenti segretati pian piano la storia ci sta finalmente portando a galla ritorniamo però adesso in via montalcini in quei 90 centimetri di prigionia le br allestirono la prigione seguendo criteri di massima sicurezza l'interrogatorio condotto da moretti fu soltanto una formalità per i brigatisti la sentenza era ovvia e non condannare moro avrebbe significato l'assoluzione della dc e anche della sua classe dirigente dall'imputazione di partito antiproletario dalle rivelazioni di maccari quando le br misero la loro sentenza finale dichiarando concluso il processo l'onorevole non aveva rivelato nulla di quanto sarebbe poi emerso nella versione parziale del memoriale moro ritrovato in un intercapedine del covo delle br a milano in via montenevoso dagli uomini del generale della chiesa il brigatista valerio morucci sostenne in sede processuale che gli interrogatori trascritti furono solo una parte delle risposte che moro fornì nel corso della prigionia e che tutti gli altri erano stati consapevolmente rimossi successivamente al delitto diverse furono le testimonianze che indicavano fascicoli riservati altamente sensibili finiti in mano al ben noto generale dalla chiesa in prevalenza carte segrete di moro particolarmente compromettenti per giulio andreotti e nelle quali si mettevano in luce le vere motivazioni alla base della strategia della tensione e le deviazioni dei servizi segreti italiani il giornalista marcello coppetti molto vicino a liceo gelli riportò gelli mi disse che il generale della chiesa fece sparire la borsa di moro dal covo dei brigatisti di via montenevoso a milano prima dell'arrivo dei magistrati per consegnarla ad andreotti ad ogni modo questa tesi non fu mai avvalorata neppure dalla deposizione del brigatista renato curcio sostenere che dalla chiesa sia morto semplicemente perché in possesso di segreti sull'argomento mi pare pura fantapolitica avrebbe detto curcio ma come gli anni di piombo ci insegnano la storia non si scrive nei tribunali soltanto quando negli anni 90 andreotti decise di rivelare l'esistenza di gladio al pubblico cosa che già moro aveva svelato ai brigatisti nel 78 pensando ingenuamente di ottenere la sua liberazione altre 220 carte tornarono fuori durante i lavori di ristrutturazione dell'appartamento in via montenevoso anche se ancora oggi molte ne mancano ancora l'appello merito forse della famosa manina di cui craxi parlò all'epoca ma torniamo al processo farsa il prigioniero scrisse le sue lettere indirizzate ai colleghi e familiari con grandissima lucidità alcune di queste furono suggerite direttamente dai brigatisti ma era ovvio che chiunque sminuisse la veridicità delle parole di moro lo faceva soltanto per salvaguardare se stesso e i propri interessi nel suo memoriale moro spiegò che i meccanismi di potere erano molto complessi e di difficile interpretazione anche per lui l'onorevole ribadì che non vi era una linearità nelle decisioni della politica italiana che la dc era un partito popolare e che non sarebbe stato tale se avesse espresso soltanto gli interessi della borghesia in sostanza le br con l'interrogatorio di moro scoprirono che la realtà era molto ben diversa rispetto a quanto loro stessi teorizzavano il sim lo stato imperialista delle multinazionali a cui i brigatisti attribuivano poteri superiori agli stati veri e propri era solo un'eccessiva semplificazione dei meccanismi di potere ipotizzati moro a mise tra le righe segreti di stato molto compromettenti per la classe politica italiana la p2 il piano solo l'organizzazione gladio il tentato colpe borghese i finanziamenti illeciti ai partiti le ingerenze americane nella politica italiana e la connivenza della dc e dello stato nella strategia della tensione tutte cose che insomma non erano certo una novità nella logica brigatista in un'intervista successiva la rai il brigatista prospero galinari avrebbe sottolineato che l'italia fosse un paese a sovranità limitata che la dc fosse un partito di corrotti lo sapevamo già tutti altrimenti non avremmo iniziato un processo rivoluzionario i brigatisti ufficializzando alla fine la minaccia di uccidere moro sperarono così di poter costringere il mondo della politica a fare una mossa disperata per poter bloccare l'esecuzione dopo la pubblicazione del sesto e terzultimo comunicato ufficiale con su scritto aldo moro è colpevole e viene pertanto condannato a morte moretti ribadì che i giochi erano ormai fatti sebbene due dei quattro carcerieri braghetti e maccari non concordassero con la decisione per loro moro aveva collaborato aveva attaccato la dc e se fosse stato rilasciato questi avrebbe causato una spaccatura nel cosiddetto partito di regime in sostanza sarebbe stato più utile da vivo che da morto motivazioni molto lucide che però si scontrarono con la carenza di visione strategica di moretti che con l'uccidere moro decretò la fine rovinosa delle br un ultimo canto del cigno dopo anni di omicidi la mattina del 9 maggio a moro che aveva implicitamente inteso che ormai fosse giunta l'ora fu detto soltanto che sarebbe uscita di prigione senza però specificare per come perché in una ricostruzione dei fatti anche qui contraddittoria tra le sette alle otto del mattino dopo averlo messo nel bagagliaio di una renault 4 rossa nel box garage del condominio moretti coprì il presidente con una coperta e puntandogli la pistola al petto sparò uno due colpi a quel punto la storia la conosciamo bene la renault 4 uscì dal garage e si diresse in via caetani a pochi passi dalla sede del pc io avevo la mitraglietta e mi voltai stavo a fianco della macchina guardando e guardavo la porta fu in quel momento che io senti una o due detonazioni e poeti che mi disse subito con fare agitatissimo di passargli l'altra la mitraglietta io mi voltai per un attimo e senza gli passai la mitraglietta e presi la pistola mi girai di nuovo e senti credo una o due brevi raffiche io gli dissi perché perché aveva chiesto l'altra l'altra arma e lui quasi imprecando disse che appunto che la pistola si era inceppata le domande risolte sono innumerevoli consideriamone soltanto alcune anzitutto che fine avrebbero fatto le borse di moro contenenti i suoi documenti riservati dato che ne aveva cinque e i brigatisti ne presero soltanto due e inoltre quella mattina che cosa ci faceva pochi metri dall'agguato il colonnello del sismi camillo guglielmi colonnello alle dirette dipendenze del generale pietro musumeci implicato nella strage di bologna afferente alla ogia p2 un pranzo da amico avrebbe riportato il colonnello una delle motivazioni della sua presenza potrebbe però essere molto più pragmatica considerato che il sismi era conoscenza probabilmente in anticipo dell'agguato il colonnello pur avendo deciso di non intervenire avrebbe ritenuto necessario di recarsi in via fani per recuperare le borse di moro e poi chi erano quei due personaggi sulla moto honda che secondo alcuni testimoni sfrecciarono in via fani subito dopo l'agguato come se stessero facendo il palo ai brigatisti quando a fare da vedetta c'era già rita al granati secondo alcuni londa testimonierebbe la presenza di un killer estraneo lbr magari un addestrato dalla gladio a cala griecas in sardegna ma onestamente ciò non avrebbe molto senso visto che roma non è gotham city quanto alla storia di un super killer ipotetico assoldato dai brigatisti per compiere il lavoro sporco anche questa potrebbe essere da scartare le perizie dimostrarono che il 61 per cento dei colpi andarono a foto niente male per un sicario fortemente addestrato visto che l'abilità si dimostra con la precisione ma anche lo stesso covo generava tantissimi interrogativi irrisolti è possibile che moro sia stato tenuto soltanto nell'appartamento di via montalcini in una cella larga 90 centimetri per tutti e 55 giorni di prigionia il primo a parlare di complici esterni fu un super pentito dell'andrangheta saverio morabito arrestato in lombardia nei primi anni 90 un mafioso importante di nome antonio nirta intesseva legami molto pesanti con l'agente carabiniere francesco del fino agente che guarda caso sarebbe poi diventato generale dei servizi segreti nirta disse morabito fu uno degli esecutori materiali del sequestro moro nonostante infatti si trattasse di terrorismo rosso e non di un fatto di mafia l'andrangheta calabrese si dimostrò da sempre attenta a questo fatto come quando il giornalista gherardo nucci e il fotografo gennaro gualerzi fecero in tempo ad affacciarsi sulla scena del crimine per scattare 12 foto ciascuno quelle di nucci intercettate dall'andrangheta scomparvelo nel nulla in quelle di gualerzi ritrovate nel 2017 comparivano due noti mafiosi giustino de vuono detto lo scotennato e antonio nitra detto due nasi direi un bel affollamento casuale a pochi metri di distanza guarda caso negli anni 90 la commissione stragi a partire dalle soffiate di mafiosi collaboratori come mannoia buscetta cercò di inquadrare l'operato della malavita nel contesto del rapimento secondo lo storico biscione l'ordine generale di attivare qualsiasi strada pur di arrivare a trovare la prigione di moro anche con l'aiuto di malavitosi partì direttamente da andreotti sguenzagli ai segugi chiedere aiuto alla malavita tuttavia avrebbe portato a un rischio cioè e se i mafiosi avessero fatto un doppio gioco arrivando a contrattare di più con i brigatisti che con lo stato è probabile che davanti a questa domanda il ruolo ricoperto dalla malavita ammesso sempre che ne abbia avuto qualcuno sia stato quello di fonte informativa per lo stato un coinvolgimento più articolato sarebbe stato troppo rischioso per le istituzioni a far sorgere il sospetto del coinvolgimento di organizzazioni criminali sono state in genere le dichiarazioni di ex boss mafiosi che hanno sempre raccontato di aver ricevuto richieste di contattare brigatisti detenuti o di essere venuti a conoscenza del luogo esatto della prigione di moro da parte di alcuni dei boss della banda della maiana e proprio riguardo alla banda della maiana perché il criminale falsario antonio chicchiarelli con il supporto dell'antiterrorismo italiano come specificato da piacinic escogitò un falso comunicato nel quale si riportava la notizia del suicidio di moro nel lago della duchessa al confine tra lazio e abruzzo forse perché i servizi segreti erano interessati a depistare le indagini e che dire poi della seduta spiritica alla quale romano prodi mario baldassari e alberto clò parteciparono in una piovosa sera dell'aprile 78 a bologna ok già questo è alquanto ridicolo non riesco a immaginarmi prodi mentre cerca di parlare con casper stando alle interrogazioni di prodi alla commissione i partecipanti alla seduta alla domanda dove fosse finito moro pronunciarono prima delle parole senza senso e poi alcuni toponimi bolsena viterbo e gradoli il giorno seguente incuriosito da questo strano fatto prodi avvisò l'acquistura di bologna che a sua volta iniziò a perlustrare il paese di gradoli in provincia di viterbo ovviamente non si trovò nulla ma guarda caso il 18 aprile in via gradoli stavolta a roma i vigili del fuoco per via di un soffitto allagato scoprirono in uno degli appartamenti della zona uno dei tanti covi delle br che incredibile casualità in pochi hanno creduto all'idea che lo spirito di giorgio lapira evocato dai partecipanti abbia sussurrato vagamente queste parole economisti del calibro di prodi baldassari e compagni alcune delle persone che avevano preso parte alla seduta spiritica avevano parenti e conoscenti che a loro volta erano vicini all'estrema sinistra bolognese cioè in una frangia dove le notizie di provenienza brigatista era facile che filtrassero molto più probabile che la seduta spiritica sia stata fatta per diffondere volontariamente la notizia di gradoli proteggendo allo stesso tempo la vita della talpa che tramite la storiella della seduta stava cercando di aiutare lo stato a catturare i brigatisti e salvare aldo moro peccato che lo stato in quel momento fosse ampiamente impregnato di membri della p2 il caso volle che nessuno pensasse abbia gradoli a roma ma la vedova moro sostenne di aver chiesto se gradoli fosse anche il nome di una delle strade di roma ma le dissero falsamente che questa non esisteva di fronte a uno stato dove la quasi totalità dei vertici non era disposta a salvare moro il problema non fu chi spifferò il nome gradoli davanti alla tavoletta ouija bensì chi si limitò ad appuntare la notizia girandosi dall'altra parte non ho l'impressione che l'eredità politica di moro sia stata raccolta da qualche d'uno perché l'eredità di moro è un'eredità vorrei dire anzitutto culturale non è un'eredità che si trasmette soltanto attraverso personale politica politico perché quello che lui trasmetteva se si vuole adoperare questa parola era la capacità di una nuova intelligenza critica dello sviluppo della società italiana aveva il senso di una modernizzazione di cui non riusciva a individuare esattamente le sue connotazioni ma aveva la sensazione che questo era il fatto nuovo e su questo fatto nuovo di un paese che oramai era cresciuto e che aveva bisogno di altre strutture che bisognava arrivare a sbaraccare in un certo senso quell'apparato della statua attorno a cui vivacchiavano enormi clientelismi di massa le incongruenze le assurdità i dubbi sono ancora tanti così tanti che impossibile praticamente riassumerli in un singolo video per quello c'è una letteratura infinitamente vasta e non un misero youtuber come me resta il fatto che i depistaggi nel caso moro hanno diciamo sortito l'effetto sperato cioè mescolarsi inevitabilmente alle misteriose dimenticanze alle coincidenze agli innumerevoli errori più o meno consapevoli alla corruzione alla cialtroneria degli apparati statali e hanno contribuito anche a dar forza tutte le nuove teorie del mistero cioè di chi vede i complottismi in ogni dove in ogni angolo della nostra vita quotidiana solo che in questo caso il complotto purtroppo ci fu davvero e anche a vari gradi moro fu la figura che incarnava un periodo che voleva indirizzarsi a un cambiamento allontanando l'italia dallo stragismo e avviandola verso un percorso di rinascita nazionale troppi avevano interesse a mandare fuori strada chi stava compiendo quel cammino e fra questi è comprovata la complicità della malavita organizzata dei servizi segreti italiani e stranieri dei politici manipolatori delle alte cariche militari deviate e immancabilmente di entità eversive come la p2 fu insomma un cocktail mortale di coscienze sporche di disfacimento istituzionale un cocktail che moro beve dal calice del destino quelli in fausto mattino del 9 maggio 1978 dovremmo essere preoccupati di certe possibili forme di impazienza e di rabbia che potrebbero scatenarsi nel contesto sociale di fronte ad una situazione che ha bisogno di essere corretta ma bisogno di un tempo di correzione per ridiventare costruttiva e la crisi dell'ordine democratico oggi dobbiamo vivere oggi è la nostra responsabilità si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà un grazie enorme a tutti per avermi ascoltato fino alla fine di questo video lunghissimo la prossima settimana se non dovessi fare un video altrettanto lungo potete immaginare il motivo un caro saluto a tutti in particolare ai mecenati che stanno supportando con grande interesse il mio canale tramite una donazione su patreon per aspera ad astra